Un tempo a testa e Taranto e Brindisi si dividono la posta pareggiando uno a uno allo Iacovone nel poco entusiasmante derby prepasquale che i rosso-blu raddrizzano nella ripresa affrontata in inferiorità numerica per l'espulsione di Terrenzio sul finire della prima frazione. Senza Gatto, Catalano e Gnoni, Pettinicchio lancia dall'inizio Aiello a centrocampo mentre davanti Mignogna rileva Fumai. Per il resto fiducia agli uomini scesi in campo a grottaglie. Parte con decisione il Brindisi rasserenato dall'avvento di Flora al timone del club. La squadra di Ciullo tiene bene il campo, mostra una certa padronanza nella manovra e al decimo colpisce con un euro-goal di Tedesco che indovina il sette con un destro dalla distanza. Maraglino può solo raccogliere il pallone dal sacco. Il Brindisi spinge mettendo spesso in difficoltà il Taranto che si fa vivo al sedicesimo con una rovesciata fuori misura di Molinari. Al minuto 24, bella azione di Pellecchia. A sinistra il tiro dell'esterno Biancazzurro è bloccato da Maraglino. Il Brindisi mantiene costantemente l'iniziativa e al trentatresimo sfiora il raddoppio. Stajano sfonda a sinistra servendo Tedesco, il cui tiro dal limite passa ad un palmo dal palo. Il Taranto è macchinoso e prevedibile e al quarantaduesimo rischia di compromettere l'esito del derby. Terrenzio commette fallo di reazione su Tedesco e l'arbitro gli sventola il rosso diretto. L'espulsione scuote i rosso-blu che al quarantaquattresimo confezionano la prima occasione con un destro centrale di Bongermino, preda di novembre. Al quarantaseiesimo Pettinicchio corre ai ripari inserendo Brancato al posto di Bongermino, riequilibrando il Taranto che ci prova anche con Mignoni a cui si oppone novembre. E dopo sei minuti di recupero arriva all'intervallo quasi come una manna. La ripresa ci riconsegna infatti un Taranto più in palla, forse strigliato a dovere negli spogliatoi. La squadra di Pettinicchio comincia a girare e al quarto si presenta al tiro con Molinari, nessun problema per novembre. Due minuti più tardi l'episodio che riporta il derby in parità. Molinari è atterrato in area da Bove conquistando il rigore. Dal dischetto lo stesso bomber argentino infila l'angolo basso toccando quota 10 in classifica marcatori. Il Brindisi non ci sta e un minuto dopo crea ancora un pericolo dalle parti di Maraglino provvidenziale con i pugni in uscita. All'undicesimo ci riprova tedesco, Maraglino è attento e para. Al ventitresimo Vicedomini lancia Molinari in novembre, gli sbarra la strada. Al ventisettesimo Aiello lascia il campo per Crampi sostituito da Papa, mentre al ventinovesimo nel Brindisi entra Bertoccini per la boragine. Al minuto 33 si grida al gol, Vicedomini riceve da Mignoni e scaglia un destro al volo che deviato dal portiere centra all'esterno del palo. Ciullo inserisce anche Greco per Pellecchia ma il Taranto appiggiare il piede sull'acceleratore creando qualche affanno alla difesa biancazzurra. Al quarantunesimo esce tra gli applausi Molinari che lascia spazio a Del Wasni. Il Brindisi risponde con manco per Sireno. L'ultimo tentativo della gara è proprio dell'italo marocchino che al quarantunesimo non riesce ad inquadrare la porta lasciando inalterato il risultato, un pari che accontenta entrambe le squadre.